Radio Ricale, siamo con Davide Sassoli, vicepresidente del Parlamento europeo, da poco riconfermato a questa importante carica tra Strasburgo e Bruxelles per parlare della legislatura. Allora, del futuro della legislatura, volevo sapere qual è la sua opinione in proposito, considerando anche che oggi c'è un interessante articolo su un quotidiano romano, il messaggero che parla anche dell'intervento della Commissione europea che gradirebbe la fine naturale della legislatura. Volevo sapere qual è la sua posizione in merito a tutto quello che si è detto, comprese le minacce di scissione del Partito Democratico. Che andare alle elezioni è assolutamente legittimo, che ci sono buone ragioni anche per andarci presto, però dobbiamo recuperare un filo di razionalità. Abbiamo cambiato un sistema da maggioritario proporzionale, penso che sia naturale che anche i partiti adeguino la loro azione. Con il proporzionale naturalmente abbiamo bisogno di coalizioni, ecco perché l'idea di intervenire sul premio di coalizione in questa logica, anche per andare alle elezioni presto, mi sembra molto ragionevole. Lei come aveva visto le parole di Bertani che minacciava un ritorno all'ulivo? Come un richiamo alle forze responsabili del PD di riprendere il filo dell'unità di questo partito. Se questa era la provocazione, credo che sia stata anche raccolta e che oggi in particolare tanti ragionino su come tenere insieme il Partito Democratico, su come rafforzarlo nella sua unità. Ritiene che Renzi oggi abbia il controllo del partito, si è detto tanto in questi giorni delle difficoltà che sta incontrando nel PD? Renzi è il segretario, il segretario che ci ha guidato per tre anni, che potrà naturalmente continuare a farlo con grande forza, con grande vigore, con grande energia. Naturalmente è però, per fare questo, per avere leadership forte, bisogna avere partiti forti. E quindi c'è bisogno di un partito democratico che riscopra proprio la vocazione a ragionare tenendo bene a mente che l'unità è un bene prezioso per i partiti. Se vi fossero disgregazioni, se vi fossero frantumazioni del PD o scissioni, l'architrave del sistema politico democratico italiano verrebbe a crollare con gravissime conseguenze. Ecco perché l'unità non è una parola vuota, è il senso di una responsabilità politica che non dobbiamo solo al Partito Democratico, ma dobbiamo al Paese. Perché se questa architrave si frantuma, allora lo scivolamento in opzioni populiste sarebbe davvero molto facile. Io immagino che lei, da Vice Presidente del Parlamento Europeo, continua a seguire le vicende di Roma. Ciabito! Ciabita, ecco sì. Volevo sapere che è impressionato di quello che stiamo vedendo in questi giorni delle vicissitudini di Virginia Raggi che viene chiamata per un interrogatorio dalla magistratura per parlare di una cosa, poi esce fuori un'altra questione, è legata a una sua polizza della vita per cui lei non è raccontata. Ma guardi, io non voglio entrare nelle vicende giudiziali perché non le conosco, non leggo i giornali. Penso che ci si avvii probabilmente a un altro scossone a Roma se questa giunta e questo sindaco continuano così. Ogni settimana ne viene fuori una, ogni settimana perdiamo tempo per mettere mano alla città. Chi si occupa, chi ha cura di questa città? E' certo non questa amministrazione che si sta dedicando a tutt'altro, che è presa da altre faccende. Invece abbiamo bisogno di un'amministrazione comunale. Ecco perché mi auguro che anche questa vicenda venga superata, però una volta per tutte. Perché sono sei mesi che di settimana in settimana, tra sindaco e assessori, l'impegno è nei confronti di giustificazioni, magari è a domande della magistratura. Abbiamo bisogno di un'amministrazione per questa città. Ecco perché io mi auguro che queste loro difficoltà vengano superate, altrimenti sarà inevitabile pensare che ci sarà un nuovo scossone. Ormai i romani sono abituati a questo e magari la decisione di assumere anche altre responsabilità. Lei condivide anche la posizione di Grillo che, diciamo, tiene ancora a galla questo sindaco? Io non voglio il male di nessuno, però voglio politici che chiariscano bene le loro posizioni, quando soprattutto dalla stampa, dalla magistratura, tante domande e tanti dubbi emergono. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie al Vice Presidente del Parlamento Europeo, David Sassani.